Nonostante una prova gagliarda, alla Gasseis Blue Energy Volley Piacenza non riesce l'impresa di battere la corazzata Perugia, fresca vincitrice della Supercoppa. Nella seconda giornata di Superlega sono gli Umbri a trionfare per 3-1 al Palabanca, trascinati da un Leon in grande spolvero, autore di 19 punti ed eletto MVP. Orfani del proprio palleggiatore Ieresuelo, che da forfè, ancora prima di scendere in campo per il riscaldamento, i ragazzi di coach Bernardi, con Izzo in regia, approcciano alla grande dando vita a un primo set combattuto e spettacolare. Perugia prova a scappare, ma Groser e compagni, bravi in tutti i fondamentali, sono sempre lì. Nel finale, qualche errore di troppo consegna agli avversari il primo round per 22-25, ma Piacenza sembra esserci. Sensazione che però si vanifica nel secondo parziale, quando Perugia mette il turbo e la Gas Sales non riesce a reagire. I biancorossi faticano a trovare il ritmo tenuto nel primo set, al contrario, gli Umbri mettono a terra palloni importanti. I piacentini provano a rientrare nelle fasi finali, ma gli ospiti oramai sono scappati. Finisce 17-25. Piacenza rientra in campo più decisa nella terza frazione di gioco. Perugia tira il fiato, i biancorossi, trascinati dal tifo del Palabanca e dai colpi dei vari Groser, Russell e Clevenot, chiudono 25-19, riaprendo i giochi. Nel quarto parziale però, gli Umbri tornano a mostrare muscoli e con un parziale di 20-25 si aggiudicano la contesa. Per la banda Bernardi non ci sarà tempo di rifiatare. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, avversario in trasferta sarà Cisterna. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, avversario in trasferta sarà Cisterna.